Preside, come sta andando la riapertura della scuola? Avete incontrato delle problematiche particolari? L'apertura sta andando abbastanza bene. Ogni giorno che passa la situazione migliora perché c'è molto spirito di collaborazione anche da parte degli studenti e anche da parte delle famiglie. Abbiamo avuto problemi, chiaramente come molte delle scuole italiane, di mancanza dei banchi che ancora non abbiamo chiaramente ricevuto. E poi noi abbiamo avuto un problema aggiuntivo, visto che un edificio che non è nato per essere scuola, ma anticamente era addirittura un magazzino del Teatro dell'Opera di Roma, che poi è stato occupato e riadattato per scuola, abbiamo delle finestre che non garantiscono una reazione delle aule sufficiente per questo periodo di emergenza. Abbiamo appaltato i lavori, abbiamo impegnato 40.000 euro per sistemare la situazione, però la ditta ha avuto problemi nella fornitura dei pezzi necessari che dovevano arrivare dalla Toscana, tra le altre cose. E quindi invece di essere pronti per il 14 settembre saremo pronti per il 10 ottobre. Intanto queste aule, quelle che stanno nei piani più bassi, sono state private dalle finestre e quindi i ragazzi comunque frequentano, anche se chiaramente hanno tutti i disagi di una stagione che se bira verso il freddo creerà qualche problema da qui alla metà d'ottobre. E rispetto all'organico avete delle carenze? Abbiamo delle carenze rispetto all'organico ordinario, non quello diciamo aggiuntivo perché per le scuole superiori non c'è stato per il personale docente. Ci mancano attualmente almeno una quindicina di insegnanti, anche in materie essenziali per la nostra scuola come informatica. Quindi stiamo aspettando ancora qualche arrivo, poi anche noi abbiamo delle difficoltà a chiamare le supplenze perché c'è purtroppo un fenomeno che pare che si stia determinando non soltanto in questo istituto, di parecchi supplenzi che rifiutano le chiamate perché preferiscono per quest'anno rimanere lontani dall'insegnamento. E sarete anche sede per il concorso? Saremo probabilmente sede di concorso che dovrebbe cominciare il 22 ottobre e abbiamo dei laboratori impegnati perché chiaramente il concorso si fa nei laboratori di informatica e quindi abbiamo già messo a disposizione i nostri laboratori per questa scadenza. Grazie. 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 Grazie.